Ben a tutti ragazzi con Orgasmic, vi porto un nuovo episodio della Zara Road to Chelsea in cui come sempre ovviamente ci saranno i tre nuovi giocatori completeremo più o meno la squadra rendendola abbastanza competitiva comunque adesso vi faccio subito vedere il primo acquisto che mi è stato chiesto da molti nei commenti cioè Oscar, vi invito comunque sempre a lasciare commenti scrivendomi giocatori che secondo voi dovrei acquistare nei prossimi video per comunque migliorare sempre la Rosa e renderla molto più competitiva visto che adesso da ora in poi affronteremo sempre avversari molto più forti con squadre veramente devastanti e quindi bisognerà avere una squadra veramente all'avanguardia infatti becco subito una squadra molto 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 forte che adesso vedremo subito qui nel video eccola qui una squadra BPL mista argento e oro con giocatori veramente incredibili tra cui in attacco spiccavano veramente un Agbo Lahore e un Sanchez non so quale versione sia comunque veramente devastante infatti l'avversario era molto bravo e grazie anche un po' alla fortuna questo qui magari non si vede ma questo è stato un tiro deviatissimo che ha cambiato traiettoria e quindi ha fatto gol il mio avversario all'ottantanovesimo riesco a trovare il gol dell'1-1, il gol del pareggio ma credetemi per tutta la partita avevo attaccato io ma non riuscivo a entrare il pallone avevo preso anche forse un pallo non mi ricordo comunque tantissime occasioni poi c'è stanchezza nei miei giocatori poi i miei difensori non sono al massimo arriva il gol di Agbo Lahore che brucia tutto in velocità stesso discorso qui con un po' di velocità la mia difesa si imbrocchisce praticamente del tutto e ovviamente l'avversario fa due gol non meritavo di perdere 3-1 comunque arriva questa sconfitta che fa un po' male brucia un po' però non meritavo di perdere 3-1 forse si ci stava la sconfitta però come potete vedere dai dati sicuramente non con due gol di scarto visto che ho avuto tantissime occasioni ma per colpa di qualche handicap nel senso che c'è avuto i difensori non il massimo ho preso dei gol che potevano essere evitati comunque come avete visto ho comprato Ramirez altro giocatore che praticamente mi avete chiesto solo lui nello scorso video insieme a Oscar e l'ho preso perché comunque dovevo sostituire l'oftus chick che ha fatto il suo tempo intanto do una rosa una forma fisica più 30 con la oro e cerco la seconda partita di oggi con comunque una squadra quasi al completo manca soltanto il terzino destro come vedete da sostituire con uno oro e poi vabbè i due centrali ma li vedremo in un secondo episodio in un altro episodio trovo questa squadra qui che sinceramente non conosco questi giocatori quindi un po' allo scuro di tutto ciò però parto subito con una grande giocata di Salah che entra in area e poi gol della merda segna Hazard però comunque a me non interessa nel senso che dobbiamo vincere quindi anche se facciamo questi tipi di gol chi se ne frega l'importante è cercare di non subire arriva anche un gol meraviglioso di Didier Drogba che sigla appunto il suo 0-2 con un gol veramente incredibile poi cagata del mio avversario al sessantesimo palla in mezzo Hazard no non Hazard Salah mette in mezzo per Drogba 3-0 e l'avversario non può fare altro che premere start e quittare quindi la partita finisce 0-3 doppietta di Drogba e gol di Hazard con due assist di Salah se non sbaglio comunque questa partita era abbastanza facile l'avversario non era fortissimo e comunque terzo e ultimo acquisto della giornata Branislav Ivanovic per completare tutti i giocatori cioè non abbiamo più giocatori bronzo in sostanza Kane quindi lo salutiamo però qui sorgerà un problema intanto qui non vi ho messo una partita che mi ha quittato tipo dopo 13 minuti non è che mi ha quittato l'avversario la mia connessione è impazzita o del gioco non lo so e quindi mi ha dato anche una sconfitta e quindi mi ha abbassato il rit però vabbè pazienza ultima partita incontro questo avversario qui ormai la squadra è andata comunque l'avrete vista praticamente due tiri in porta del mio avversario due gol questo con Higuain però veramente Schwarzer non prende niente poi ho notato ragazzi che Ake è un giocatore penoso io penso che sia il difensore centrale più scarso che abbiamo mai provato però sotto 2-0 noi non molliamo Hazard dentro per Drogba che prova il tiro viene tirato giù gli hanno sparato a Drogba quindi calcio di rigore che ovviamente Hazard non può fare altro che segnare con questo tiro abbastanza centrale e poi dopo intanto qui prende il pallone e poi arriva un secondo rigore incredibile non mi è mai successo prendere due rigori così in poco tempo nella stessa partita rigore nettissimo sacrosanto causato da Desciglio tra l'altro e Hazard riesce a raggiungere il pareggio comunque l'avversario ha anche un espulso quello sul primo rigore su Drogba e quindi 2-2 poi risulta anche abbastanza facile fare il gol del 3-2 con questa meravigliosa giocata di Salah che rientra con una facilità incredibile e trovo il gol del 3-2 sullo 0-2 pensavo che fosse finita perché l'avversario era abbastanza fortunato i miei giocatori non rispondevano quasi mai ai miei comandi nel senso facevano un po' di testa loro però come potete vedere dei dati qui la partita è stata totalmente dominata dal Chelsea che vince onestamente e giustamente questa partita comunque raga l'episodio finisce qui spero vi sia piaciuto fatemelo sapere nei commenti vi invito sempre a lasciare un bel like vediamo se riusciamo ad arrivare a 300 mi piace scrivete ovviamente nei commenti quali sono i giocatori che dovrò acquistare nei prossimi video ovviamente penso di sostituire a che nel prossimo episodio e poi magari cambiare anche il portiere perché come ho detto non ne prende una ma neanche per sbaglio e poi Drogba volevo cambiarlo perché mi è parso un po' lento un po' macchinoso e quindi magari puntare su Remy e vedere con chi mi trovo meglio ragazzi iscrivetevi al mio canale pagina Facebook, Twitter, Instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga